Ci siamo! Oggi per Una Maglia, Una Storia, vogliamo in Portogallo! Ciao, sono Panoz, sono il tuo partner per la comunicazione vincente e oggi ti racconto la storia di Joao. Ma chi è Joao? È un ragazzino di 16 anni, o meglio, li compirà fra 4 giorni. Lui vive a Lisbona e ha un tipo sfrenato per il Benfica. Sì, è la sua squadra del cuore. E allora il suo cuore è trepidante soprattutto perché oggi, che è il 14 maggio, alle 20.45 si trova in un posto magnifico. Si trova allo stadio Danluz di Lisbona a vedere una partita molto importante per la conquista del titolo di campione di Portogallo. La classifica al momento cita esattamente così. Sporting 61, Benfica 61 e Porto 58. Le tre più grandi squadre portoghesi, una dietro l'altra. Sì, però in testa c'è lo Sporting. E perché c'è lo Sporting in testa? Perché il Benfica ha fatto una grossa cavolata. E già una settimana fa, terz'ultima giornata di campionato, Penafiel-Benfica. Vittoria scontatissima del Benfica che invece sta perdendo 1-0. Mancano pochi minuti alla fine e c'è quest'azione in aria. A un certo punto il difensore del Penafiel sembra spingere leggermente il giocatore del Benfica in maglia bianca. Schierano la seconda maglia, quella bianca, ma l'arbitro dice no no no, alzati alzati, non è rigore. Quindi la partita finisce 1-0. Il Benfica perde il primato e a questo punto in testa la classifica è lo Sporting. E allora Joao è lì, è lì, nello stadio Daluz, immerso in questa fantastica marea di tifosi bianco-rossi, che tifa per il Benfica, che come abbiamo detto ha un assoluto bisogno di vincere, anche perché si sta per giocare il derby di Lisbona. Da una parte il Benfica e dall'altra lo Sporting Club CP, Portugal, lo Sporting Lisbona, lo chiamiamo così noi. E, ma bisogna vincere, è all'86esimo minuto, il risultato è fermo sullo 0-0. Teniamoli questa partita. Anche perché Joao è andato allo stadio con una maglia che non è quella rossa che stanno indossando in questa partita, non è quella bianca del Penafiel, ma indossa la terza maglia. Gli è piaciuta da subito questa maglia. Eccola qua, è una maglia meravigliosa, la maglia Gold del Benfica, bellissima. Con lo sport Vodafone del Adidas, questa bellissima maglia, è una maglia che il Benfica utilizzerà solo durante la Coppa UEFA. E allora cerchiamo di andare a vedere qual è il percorso di Coppa UEFA del Benfica, ma soprattutto perché ha comprato questa Gold. Ma perché gli piaceva, ma perché il giorno del suo compleanno si giocherà la finale di Coppa UEFA e si giocherà a Lisbona. E allora il buon Joao ha detto, beh, mi compro la maglia top, la maglia che noi del Benfica utilizzeremo di più in Coppa UEFA. Vediamo come va il cammino del Benfica in Coppa UEFA. Il primo sorteggio tendenzialmente è facile. Prendono questa squadra Ducla-Banska-Birstrica, veramente molto difficile da pronunciare, i cui tifosi sono veramente impazziti al momento del sorteggio. Veramente speravano di prendere il Parma, volevano venire in Italia a mangiare un po' di parmigiano reggiano e di prosciutto di Parma, ma quando gli hanno detto giocherete contro il Benfica, allora hanno comunque fatto i salti alti come una casa. Perché? Perché si gioca poi nello stadio che ha visto e ha ospitato la finale degli europei appena finiti nel 2004. Quindi tutti contenti e dobbiamo preparare una grandissima accoglienza per i tifosi del Benfica e soprattutto per la nostra squadra, il Ducla. Loro si presentano allo stadio al mattino. La UEFA gli dice, no, scusate, forse non avete capito, ma noi andiamo a fare sempre le coreografie al mattino. No, 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 non c'è. Qui entrate due ore prima della partita. Uffa! Nonostante tutto ciò, i tifosi del Ducla preparano una coreografia fantastica al centro della quale c'è un cuore. Lob, lob, lob! Bellissima! Però la squadra è quella che è. Cercano di resistere, nei primi minuti resistono agli attacchi del Benfica, ma alla fine il Benfica, che schiera ovviamente la mitica maglia gold, vince 3-0. A ritorno finirà 2-0, finisce così. L'avventura del Ducla va avanti, quella del Benfica, che si ritrova in Coppa UEFA con una formula diversa dall'attuale. Ci sono le fasi a gruppi, ma i gruppi sono fatti da 5 squadre che giocano una contro l'altra, ma non andata e ritorno. C'è solo l'andata o il ritorno, quindi si gioca o in casa o in trasferta contro le avversarie. Passano le prime due, la terza in qualche maniera può fare dei play-off per passare il turno. Il Benfica va molto bene, poi si presenta contro lo Stoccarda, che è la squadra più temibile del girone, indossa ancora una volta la maglia gold, ma questa volta il 3-0 lo fanno i tedeschi. Non è un problema, perché comunque i punti fatti dal Benfica saranno 12, come quelli dello Stoccarda, ma lo Stoccarda passa per primo, il Benfica passa per secondo. Non c'è problema, bisogna vedere quale sarà il sorteggio. Il sorteggio dice CSKA Mosca, oppure SESKA Mosca, come preferite. Il punto è, sorteggio che si dice essere un sorteggio facile. Ma perché facile? Perché le squadre russe dell'epoca iniziavano il campionato a marzo, e quindi a febbraio, quando si gioca la partita, dai, è tutto semplice, è tutto facile. Ma il SESKA Mosca fa una mossa strana. Decide di giocare non a Mosca, perché lì non c'ha un vero e proprio stadio, dovrebbe giocare nello stadio degli odiati rivali dello Spartak, e alla fine decide di giocare a Krasnodar. Sì, sono solo 1300 km da Mosca, lì le distanze, insomma, sono un pochino diverse dalle nostre. Il tecnico del SESKA Mosca sta preparando con diversi amichevoli questa partita, mentre il tecnico del Benfica dice, salve tranquilli, noi andiamo laggiù a Krasnodar e non ci sono problemi. Cerchiamo di portare a casa un pareggio, se possibile magari segniamo un gol in trasferta, c'è ancora la regola dei gol in trasferta, e la sfanghiamo. Questo allenatore mi sembra che abbia una mentalità, come si suol dire, molto italiana, quella di essere un po' conservatore, un po' catenacciaro, almeno così lo accusano. Ma chi è questo allenatore? È un allenatore italiano? Sì, è un allenatore italiano, molto famoso, sì, molto famoso. E allora l'avete indovinato sicuramente. L'allenatore è lui, Giovanni Trapattoni, grande allenatore anche della Nazionale Italiana, della Juventus, dell'Inter, grande giocatore del Milan, insomma, lo conosciamo tutti Giovanni Trapattoni. Lui prepara la partita in questa maniera e vediamo come va questa partita. Primo tempo c'è questo cross del SESKA Mosca in maglia rossa, mentre il Benfica ovviamente schiera la nostra fantastica maglia gold e passa in vantaggio al SESKA Mosca. Va bene, dai, magari la pareggiamo se segniamo un gol in trasferta. Secondo tempo, ancora SESKA Mosca in possesso di palla. C'è questa verticalizzazione per l'attaccante brasiliano del SESKA Mosca, che con un sinistro infila il portiere del Benfica. E come si chiama questo attaccante? Si chiama Wagner Lobb. Possiamo fondamentalmente dire che l'avventura del Benfica in Coppa UEFA era iniziata con un Love, Love, Love e finisce con un altro Love. Questa volta è Wagner Lobb, un grande attaccante, un attaccante brasiliano, che ha fatto la storia del SESKA Mosca e che praticamente elimina il Benfica dalla Coppa UEFA. Beh, ci sarebbe il ritorno, i tifosi sono spazientiti. Ma come? Abbiamo preparato malissimo questa partita, siamo andati là per non perdere, dovevamo vincere, dovevamo almeno giocarcela e non ce la siamo giocata. Trappottoni è sicuramente molto, molto criticato, ma vuole provarci lo stesso. Dice, state tranquilli, ce la possiamo fare. Il problema è che nel ritorno segna per primo il SESKA Mosca e a questo punto il Benfica deve fare 4 gol. Ne farà solo uno, la partita finirà 1-1 e la partita vuol dire l'esclusione finale totale dalla Coppa UEFA per il Benfica. E allora Joao? Joao l'abbiamo lasciato là allo stadio Daluz, ma Joao deve dire ciao ciao alla sua finale, al suo sogno di andare il giorno del suo compleanno a Lisbona con il biglietto che si era già comprato, con la maglia gold, a vedere il Benfica alzare la Coppa UEFA. Vabbè, dai, ci resta ancora questa partita e allora godiamoci questa partita al Daluz. Siamo, dicevamo, all'86esimo minuto di gioco e c'è una punizione a favore del Benfica. Vediamo questa punizione, palla messa in mezzo, c'è una mischia, gol. Un gol di Luisao, però occhio, guardiamo un attimo il portiere, guardiamo il difensore dello Sporting. Tutti hanno il braccio alzato. Che sarà successo? Magari un fallo di mano? Magari un fallo sul portiere? Lo annullano? Allora andiamo a scoprire meglio che cosa è successo in questa azione. C'è la palla che arriva, il portiere sembra uscire un po' a far palle, ma sarà stato ostacolato? Di qua non si capisce benissimo. Qui salta, ma il braccio non mi sembra che vada a interrompere la parata. Nel portiere Riccardo dello Sporting, questa immagine sicuramente chiarisce tutto. Ecco la palla che arriva, Luisao salta quasi contro tempo, la palla gli cade quasi sulla nuca e fa gol. Il gol è buono, il gol è buono, il gol di Luisao è buono. Quindi a questo punto il Benfica è in vantaggio 1-0 all'86esimo. La partita si chiuderà 1-0 per il Benfica che va a scavalcare lo Sporting e si riporta in testa alla classifica. Nell'ultima giornata c'è un pareggio, basta il pareggio per diventare di nuovo campeão. Quindi il Benfica è di nuovo campeão e per la prima volta diciamo che Joao può esultare per uno scudetto vinto dalla sua squadra del cuore. E per quanto riguarda la finale? Perché la finale comunque si deve giocare. Si gioca il 18 maggio, Joao il biglietto l'aveva comprato, la maglia ce l'aveva se la mette lo stesso. E si presenta allo stadio dove si giocherà la finale. Ora io vi chiedo, ma in questo stadio Joao come entra, con che spirito, con che umore entra? E avete quattro risposte a disposizione. La prima, lui, no, rimpianto estremo. Caspita ci dovevo essere io, era il giorno del mio compleanno. Oppure la seconda opzione è quella di fair play. Ma a me, chiunque vinca, va bene lo stesso, l'importante è comunque essere qua. Oppure fa un tifo sfrenato per il Sesca Mosca. Sì, perché c'è il Sesca Mosca in finale, proprio quelli che hanno battuto il Benfica. Ma è incredibile. Ma io li tifo lo stesso. Oppure gufo. Gufo totalmente e dico no, devono perdere perché ci hanno eliminati. Qual è la risposta giusta secondo voi? La risposta giusta è tifo sfrenato. E direte voi, ma sì, qualcuno tifa per quella squadra perché, insomma, se ci hanno eliminati saremo i vice campioni. Non è quello il motivo. Guardate bene questo biglietto e forse vi accorgerete che la partita non si gioca allo stadio Daluz, ma si gioca allo stadio José Baladí, che è lo stadio degli odiati rivali dello Sporting Club de Portugal. E sì, vabbè, ma si gioca solo allo stadio dello Sporting, che c'entra lo Sporting. E c'entra sì. Perché la finale è Sesca contro Sporting. Caspita, ma lo Sporting gioca in casa. Joao, cosa ci vai a fare a vedere lo Sporting che ti vince la Coppa UEFA sulla tua faccia? E infatti lo Sporting segna subito 1-0 per lo Sporting. La partita sembra in discesa, ma nella ripresa c'è un colpo di testa che porta al pareggio del Sesca Mosca. Oivo, poi ancora Sesca Mosca, ancora in attacco, con un sinistro, pam, 2-1 Sesca Mosca. E a questo punto lo Sporting deve pareggiare in tutti i modi. Ci prova con un tiro dalla distanza, ma Kinfeb c'è, la respinge, eccolo qua. Poi para ancora un'altra volta, poi la palla viene messa e fa il gol. No, non è gol, ma guardate cosa sbaglia, di Tibia sul palo, la palla ritorna indietro. La para Kinfeb, che poi fa ripartire immediatamente l'azione che si dipana sulla fascia sinistra. E l'attaccante del Sesca Mosca salta l'avversario, la mette in mezzo, il portiere va a far falla e la palla entra dentro. Ed è il gol di Wagner Love, Love, Love. Non era finita lì, non era finita con il gol di Wagner Love contro il Benfica, ma la storia finisce con il gol di Wagner Love, che fissa sul 3-1 il risultato a favore del Sesca Mosca. E non è finita qua, perché c'è ancora una sorpresona per il grandissimo Joao. Lui è andato con la maglia gold a vedere la partita, e cosa fa Wagner Love e tutti i suoi compagni di squadra del Sesca? Durante la premiazione, non si capisce bene perché, ma si tolgono la maglia rossa e indossano una maglia che non hanno mai adottato. Non era la maglia del Sesca, né la prima né la seconda, ma la maglia è la maglia gold, la stessa maglia che ha Joao, che richiama i colori del Benfica di quella stagione. Joao può finalmente festeggiare alla grande non solo lo scudetto vinto dal Benfica, ma anche la Coppa UEFA conquistata dal Sesca, con la maglia che lui si era comprato, ma soprattutto contro gli avversari storici dello Sporting di Lisbona, battuti in casa dal Sesca Mosca. E allora, se ti è piaciuta questa maglia meravigliosa, questa maglia meravigliosa, meravigliosa del Benfica, se ti è piaciuta la storia di Joao, e allora mettimi, mettimi un love, mettimi un like a questo video, attiva la campanella, iscriviti al canale, perché anche tu riuscirai a fare le presentazioni meglio del 87,44% delle persone, e scoprirai anche quali sono i dettagli, le curiosità, gli aneddoti che si trovano dietro a tante, tante, tante maglie da calcio che ancora non conoscevi. Alla prossima! Ciao!